Molti aggiornamenti di oggi arrivano dalla direzione di Bakhmut. Quelli più interessanti vengono dal fianco sud. Vicino a Kordiumivka, gli ucraini hanno bombardato le posizioni russe. Gli artiglieri della 28esima brigata meccanizzata sono riusciti a colpire diverse posizioni russe nel villaggio costringendo l'affanteria a cercare rifugio. Nel frattempo conducevano anche operazioni di controbatteria in quanto si può vedere una posizione mortaio-russa mentre viene colpita. Questo è un esempio della mancanza di sistemi e personale russi in quest'area, probabilmente concentrati in altre parti del fronte. Questa ha permesso all'artiglieria ucraina di dominare intorno a Kordiumivka, anche grazie al supporto dei droni suicidi, cosa che sta ostacolando la logistica russa verso altre direzioni. Un po' a nord, vicino a Klishivka, geolocalizzazioni mostrano che i russi non sono progrediti di molto a sud del dosso ferroviario. Questo sottolinea il loro voler catturare i Vaniske, in quanto tutte le altre direzioni hanno una minore priorità. I russi sono infatti convinti che catturando il villaggio, l'intero fronte sud verrà meno. La strada per i Vaniske non è solo collegata a Cezviar, ma anche a Kostiantinivka, un centro logistico piuttosto importante per gli ucraini. I russi hanno usato missili per colpire la zona e danneggiare la logistica ucraina, ma a causa della poca precisione di missili, oltre alla stazione ferroviaria, sono stati distrutti anche un supermercato e una chiesa. Da Kostiantinivka i rinforzi e i rifornimenti passano per la strada fino ai Vaniske, e anche questa linea logistica al momento sotto fuoco russo, oltre al lato ovest di Vaniske, il che ne conferma il controllo ucraino, nonostante le fonti russe dichiarassero fosse sotto controllo russo. A nord di Vaniske i russi sono progrediti di poco sulle colline. Sono infatti impegnati in pesanti scontri per catturare le trincee nell'aria. Durante uno di questi combattimenti, i russi hanno giustiziato nove prigionieri di guerra per la pura frustrazione di non aver ottenuto nella zona. Nei campi est di Vaniske la zona di controllo russa è molto più piccola, in quanto i campi tra i Vaniske e Creomove sono sotto controllo ucraino. Questo significa che anche il controllo russo su villaggio inferiore e solo parte di via Sadova è caduta in mano russa. Per generare ulteriori progressi, prima degli assalti i russi bombardano estensivamente la parte centrale del villaggio dove sono posizionati gli ucraini. Questo conferma anche la localizzata superiorità aerea russa. La situazione per gli ucraini rimane difficile, ma nonostante i bombardamenti e gli assalti mantengono posizione. Per quanto riguarda il fianco nord, la situazione è invece molto dinamica. I russi non hanno lanciato alcun assalto, ma i bombardamenti su Chasiviar sono molto intensi. Un grosso numero di bombe plananti sono state lanciate contro il distretto Kanal nella parte est della città. Qui ci sono molti edifici a più piani e l'intera zona industriale, da dove gli ucraini possono respingere attacchi come facevano a Vuledar. Per creare le giuste condizioni per l'attacco, i russi non possono fare altro che demolire questi edifici per evitare che gli ucraini possano usarli. Lo scopo principale delle forze russe è occupare Chasiviar e prepararsi per assalti su costi anti-Nivka. Per evitarlo, gli ucraini sfrutteranno ogni vantaggio che hanno a disposizione a Chasiviar. Se guardiamo la mappa topografica, possiamo vedere che la città si trova in una posizione elevata e ogni distretto si estende su colline separate. La zona sud è protetta da una foresta che impedisce ai russi di usare i corazzati. Nella parte centrale est ci sono diverse zone industriali che gli ucraini stanno usando come depositi ed ecco il perché i russi stanno provando a bombardare la zona. Inoltre, essendo composte da edifici rinforzati in cemento e acciaio, sono ideali per difendersi da combattimenti urbani. In più il canale Siversky-Donetsk divide la città in due il che complica ulteriormente le cose per i russi che non possono attaccare dal distretto est senza attraversare il canale il che li esporrebbe enormemente. In generale, gli ucraini mantengono le posizioni lungo l'intera direzione di Bakhmut. I russi sono impegnati in un disperato tentativo di generare progressi da portare sul piedistallo delle elezioni che avranno in meno di due settimane. Anche l'imminente fanghiglia traccia una data di scadenza per le operazioni russe e sarebbe ideale per loro cominciare a preparare posizioni e assicurare i progressi ottenuti. Tuttavia, è probabile che i russi stiano provando a costringere gli ucraini a rilocare le proprie truppe creando diverse crisi lungo il fronte. Una, per esempio, è quella con la Transnistria. Parleremo di questo e di più nel nuovo video dedicato agli abbonati e se doveste essere interessati potete abbonarvi usando i link in descrizione.